e benvenuti a questa vista live oggi sono in comandia di nessuno io direi il giro passato è tutto tutto se non mi ha fatto il giro ok non 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 questo mi sono bella vedevo dato gli iscritti secondo raga delito e io arrivo ok fra dunque allora levo sono emissione c'è voglia ciao the king bella king tutto a posto raga state bene tutti dormite bene dormite tutti bene si bene bene king mi fa piacere ho dormito come un orso di netargo anche io devo sinceramente se devo confessare non ti trovo provo a cercarti io ecco tu bella davide bella davide raga dove stai tutti bene se volete giocare e tratto perché tanto degli amici di oddigia si fa qualche missioni si fa si fa l'oscuro si scambia si si battle per ora però stiamo su salva e ehi oh fra oh io vado bella bella e ehi ehi oh 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 i i i i i i i i la cosa che si scrive se si sa di scoprire anche a me due persone si sono disiscritte no vabbè la stagliate due persone ma che fa la roma che si fa la legge seguiva sì anche live improvvisiamo adesso vediamo se c'è qualcuno hai energia a traccelle certo simbolo ce l'ho ce l'ho le traccelle ora vedo quante le ho io 92 fra se l'abbiamo allargosa ma io abbia pensato c'è un libro ma la notte che non è riuscito a valutare la scuola non ho scuso scuola frascudo l'uomo non so se ti volevo una cosa che deve avviare nimi la stessa c'è una cosa che non è una cosa che si chiama e leggermente ma non manca solo gg però è un giocatore o la leggera del centro non c'è un giocatore che ha fatto m raga ho bella anche lei ho il progetto della lanciatura nobile e del super organizzatore ok specchio roi raga ho detto basta quello lì ok vai raga bel like per la live o se non bel like iscrivetevi ricordo un bel like per la live un bel like per la live aspettate allora modifico il titolo eh fai give no no scrivo giochiamo di fan sape battle e raga e giviamo oppure giochiamo di fan e regaliamo a tutti tutti attraverso il nostro corso vai a mettere le armi tanto si aspetta che ti do visto che ormai c'è un boccio c'è un po di pacchetti vediamo se stessi un po di pacchetti 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 fra ma perché un po di pacchetti 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 di pacchetti un po di pacchetti di pacchetti di pacchetti un po di pacchetti un po di pacchetti un po di pacchetti 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 di pacchetti